Siena, bitches Queste sono le mie due bitches preferite Flex postazione 1 Flex postazione 2, bro Stay tuned L'artista 3D Abbiamo gli schermi Abbiamo il mixer Abbiamo le bitches Ci abbiamo tutti Ma cosa stai giocando? Di il titolo di questo gioco Non lo so neanche Vaffanculo Avevo una bomba Muori Sei forte, Arash? Sono forte Sto giocando in arbre Nessuno ci crede Io sto montando il tuo video E te ti guardi porno sull'air Ma che cazzo guardi porno? Voglio sistemare un sense Non sai soldi In pratica Siamo in questa maison Questa casa Siamo io e Arash Due campioni mondiali sotto lo stesso tetto Lui di Pokemon Io di bellezza Facciamo tre E cosa succede? Noi dormiamo insieme E siamo in questa casa Che è pagata Un toto Da Francesco Filurzo E Chiara Docco E niente Questi Non essere separate Per non Influire nella qualità E niente Poi c'è La fottutissima cucina C'è Due bagni Ragazzi Piena distanza Piena distanza Piena distanza Se ci termina Il pardo O il lencio O tutte e due Bro Quindi Questo è un messaggio a tutti quanti Le cose Per Pokemon Si fanno per bene Stiamo Spaccando tutto Con tutte queste cose Stiamo Spaccando tutto Di qualitativamente Di contenuti Di numeri Stiamo Spaccando Qualsiasi cosa Stiamo Portando questo gioco Grazie anche ai giocatori Che fanno risultato A livelli estremi Siamo Siamo un simbolo Per tutto il mondo E questo Questo qua È Mixer di Paolo Ciao Paolo Saluto sempre Paolo Ciao Paolo Ti stiamo perdendo Ma cosa Non ci gioco Non è che più Mi avete perso nel 2014 Per un po' Per quello C'è il tipo Poco Relax Prima di domani Con il succhietto San Paolo International Streaming Bitch Paolo Paolo Sexy Paolo Che stai facendo Periscope Stavo facendo un po' Di backstage Esatto Pisalli 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 dappertutto Va bene va bene Avete qualcosa da dire Dai Ha un senso Fidati Perché Pisalli 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 Andre Pisalli Arash Vai a vedere I tuoi pisalli Buoni Non fare il finto culo Che si è distrutto Energia Energia Morta Tutto spento Lasagna Lasagna B***h Lasagna B***h Lasagna Nincio Is just What a B***h Lasagna Ok Questo è il tutorial Di come si prende Una lasagna Senza Sbiascicare Tutto Dappertutto Senza Sporcare Tutto Dappertutto Non hai la spatola Perché sei povero Per comprare O perché non te ne frega Niente Delle lasagne Fino a oggi Definisci I limiti Della tua lasagna Poi Infili sotto Con la doppia forchetta E tiri su pieno piano BAM Perfetta Senza rompersi E BAM Se no Come il nicio Io veramente Userei una paletta Perché in casa c'era 10 su 10 Swag park Queste sono le skill Ragazzi Dei veri pro player Di pokemon No Ascoltiamo Bob stars Allora C'è C'è Una caccia C'è 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 Bello Desebrato Arash Che hai da dire Questa pizza È arrivata molto in fretta È molto presto Che ore sono? Le trentasette Le undici Le trentasette No Ho bevuto Tre No Aspetta Proviamo tre Due Uno Pitch Questo Questo è l'inno Di questi Di questo internazionale Si può dire Si può dire Ragazzi Guarda Guarda Questa è di sebe Impareremo questo Cazzo di quelletto Dai domani lo faccio Direttora a San Paolo Lo faccio Aspettando Arash Che asca da questa Fottutissima Porta Che devo fare La doccia Chi sei? Che cosa vuoi? Oh Vai via Oh Vai via Qualsiasi Che messaggio vuoi dare Alla community Desseremo 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 Desseremo